Tre accordi, esce questa canzone. E carne verso te, alma. Guantanamera, quasi da Guantanamera. Guantanamera, quasi da Guantanamera. Gli accordi sono sempre Re, Sol, La. Però in questa canzone è molto importante la mano destra e il ritmo che deve dare. Perché se io faccio così... Io sono un ombre sincero e dove cresce la palma. Esce una schifezza così. Invece se la vogliamo sentire un po' quell'atmosfera sudamericana, dobbiamo metterci delle anticipazioni e delle pause. E questo lo può fare la mano destra. Vedi, prima suona l'accordo. Io sono un ombre sincero. Un ombre sincero. Fai due accordi insieme. Sul Re non canti. Qui fai due accordi insieme. Di nuovo, non canti. De dove cresce la palma. Io sono un ombre sincero. Quindi è soprattutto la mano destra che bisogna guardare. Guantanamera. Impariamo l'uso della mano destra. Grazie. Grazie.